Benvenuti a tutti quanti, tendenzialmente vorrei parlare in Veneto, cos'è un problema per qualcuno? In caso parliamo in inglese? No, parliamo anche in italiano? Ecco, no, perché abbiamo da abituarsi intanto a sentire il Veneto, ognuno con la sua varietà, in contesti anche di insegnamento, in contesti anche istituzionali, e per farsi la reccia ma non è una roba così nuova in realtà, avevamo da rendersi conto che dentro sti paesi, ma non solo dentro sti paesi, sulle nostre case, parlo per il Veneto in sto caso, fin 30 anni fa non si parlava niente altro che Veneto tutti quanti, dopo in quei contesti esterni si parlava Veneto, e in tanti posti ancora adesso si parla Veneto anche dal dottor, parla Veneto professori universitari, insomma, si è capitato a tutti quanti, ma anche perché avevamo da rendersi conto che il Veneto, dal punto di vista linguistico, fa parte di una famiglia di lingue che esengono le lingue neolatine, e anche del fatto che il Veneto in realtà è che è una varietà romanza, quindi neolatina, e che è fradeo dell'italiano, e non fioio. Se mi vi disesse, no, l'italiano, dal punto di vista genealogico-linguistico, da dove venio? Vieni dal latino, sì, perfetto. Ma attraverso che fion del latino? In che zona nasce l'italiano? Ho visto che non interrogavo, invece scommisso subito queste domande. Dal Toscano, dal Toscano. Dopo vedremo la cartina di Dante, basata sulle vulgari eloquenze. Perché vogliamo da rendersi conto di cosa c'è questa lingua prima di tutto? Dopo rivemo in realtà alle esperienze e alle proposte. Allora, prima di tutto, bisogna che se domandiamo quale è il profilo della lingua, quale è che se, quindi le azioni, dopo numererò velocemente, del recupero della percezione della lingua, e a fine, cosa che se che ha fatto, sempre nella prima parte, per produrre robe nuove in te a lingua. Successivamente, in te nella seconda parte, che è il centro vero della questione, quindi nemmo un po' di approssimazione successive, la, praticamente l'iniziativa che se ha fatto, è quella che si può fare per l'insegnamento del Veneto, o meglio, per l'acquisizione del Veneto, in diversi, con diverse modalità, in diversi settori. Dove? Scoia, chiaramente. Perché quando che si parla di acquisition, in LPP vuol dire Language Planning and Policy, quindi la pianificazione linguistica e le politiche linguistiche, cosa che si fa per recuperare la lingua, o semplicemente per dare gli spazi che questa lingua per vero l'haga sempre avuto. E, solo di tutto, analizzare la situazione attuale. Ora, i tre assi del ragionamento sono Status, Corpus, Acquisition. Quindi, è il status della lingua. Come se i parlanti percepiscono la lingua? Come se la comunità accademica percepiscono la lingua? Se considera un diaetto inutile? Se considera un diaetto bello? Se considera un diaetto che non ha mai avuto una letteratura? O se considera una lingua che può fare tutto? Ecco, in tutto questo spettro di possibilità, bisogna mettere in manpa a capire qual è la condizione attuale della lingua in generale e, dopo, eventualmente, e qua parleremo in particolare dell'Istro Veneto, delle sue varietà interne. Boh. Dopo, è l'aspetto del corpus, quindi cosa che fa parte del corpus della lingua, di tutta la lingua e o delle singole varietà. E, infine, cosa che si può fare in ottega dinamica, verso il futuro, per l'acquisition. Cioè, come se che quei che non insegnano ancora nessui, o quei che si appena nessui, o nassesti o nati, come se che puoi acquisire questa lingua? Sabe che, in gloto didattica, acquisition è se sia apprendimento formale, quindi dove c'è la persona che mi insegna, la che ha l'intenzione di insegnarmi, che ho se apprendimento, invece acquisizione, in senso, diciamo, più specifico, l'acquisition è tutto, acquisire è una lingua. Una parte è l'apprendimento, dove quindi se che si è un insegnamento, che si è un apprendimento, e il resto dell'acquisition, dell'acquisition, è quando che si impara le robe, anche senza incortarsi. Senza il procedimento che si chiama noticing, cioè incortarsi che ti si deve imparare. Ti assorbi, solo stando là. E questo è quello che fai i putei, sostanzialmente. E facciamo anche da adulti, sempre manco però, col tempo. A posto. Quindi questo c'è il quadro. Però prima di tutto voglio farvi tre domande. Prima domanda. Siete tutti insegnanti. Ma di che primaria, di secondaria? Posso domandarvi chi è che siete da primaria sulle mani? Ok, primaria. Si so che avevo altri, scusami. Gavi, ero Gavi, Ianni e Takai. Però Gavi capisco cosa che intendevo. Però reformulo. Chi è che hai le classi fino alla, vorrei dire la quarta, avevo altri. Ecco. E dopo quinta, sesta, settima. Ok, quindi grosso modo che siamo. Circa corrisponde al nostro sistema. Gavi anche all'ottava, no? Sì, anche all'ottava. Buon, perfetto. Quindi mi stanno, godo prime. Anche a me sono insegnante. Insegno l'Italian, storia e geografia. E godo prime della secondaria del primo grado. Perché è ancora più complicato in Italia. C'è la secondaria, ma c'è del primo grado, c'è del secondo, eccetera. Vabbè, non importa. Ecco, quindi, sa vi, ma io de mi, mi con la primaria, insomma i primi cinque anni vostri, non ho, abbiamo fatto dei progetti, ma principalmente l'attività che è stata realizzata dall'Accademia, è stata fatta, l'Accademia della Buona Creanza, l'Accademia della Lengua Veneta, è stata fatta per quei che attualmente, sei negli ultimi tre anni della vostra, appunto, della primaria. Come si chiama, è la primaria? Elementare, siamo elementare fin là. Ok. E questi otto anni corrispondono in Italia al primo ciclo. Ecco, quindi gli ultimi tre anni del primo ciclo, che si fa via altri paniantri. Allora, prima però bisogna che se... Ah, e le materie, lettere? Chi insegna lettere? Quindi italiano, storia, geografia? E altre materie, so, arte, musica, religione, matematica, scienze, altre robe? Cosa vuoi dire? Ah, ok, sì. Ho capito, niente, niente, siamo a casa, che no. Ma quindi altre, altre attività, progetti singoli, come così riesco a rendermi conto che mesi di volte non sarà male, quindi non so. No, niente. Tutte? Tutte le lettere? Solo lettere? Tutte? Ah, tutte le materie, misti. Buon, ok, ok. È per questo che non vedo a cavo. Allora, cominciamo con una piccola introduzione linguistica. Cosa si fa il Veneto? Si è una lingua neolatina, quindi che viene dal latin, che abbiamo detto, genealogicamente viene direttamente dal latin, non deriva dall'italiano o da altre lingue. E' un codice del riferimento internazionale, che è VEC, quindi sul sito dell'UNESCO, perché VEC trova il profilo della lingua veneta, che contiene anche l'istroveneto, tra le varietà. Ve anche sul sito dell'ethnolog, che è appunto il cura, un altro atlante mondiale delle lingue, l'istroveneto fa parte appunto del linguisticamente del Veneto. Il primo documento dell'area veneta è l'indovinello veronese, qua abbiamo messo inizio nono secolo, in realtà è anche a fine ottavo secolo, quindi parliamo dei tempi di Carlo Magno. In età, inizio, in realtà carolingia, in senso stretto, è l'indovinello veronese, che è il primo documento che sui nostri libri italiani spesso viene definito, quando si è commissata la letteratura da noantri nel secondo anno delle medie, e viene definito il primo documento della lingua italiana. Eh no, perché se la lingua italiana è il Toscano, Dante, il Fiorentino, il Lustre, eccetera, e chiaramente l'indovinello veronese dei 500 anni prima di Dante, è non puoi essere italiano, me ne spiace, no? Andiamo a vedere cosa che l'è linguisticamente, se vede dei tratti che si vede ancora adesso in veronese, proprio nell'area del Veneto occidentale. Quindi bisogna mettere le robe un po' insieme. Perché, dicendo il termine diaetto, finché si dice diaetto padovan, diaetto visentin, può stare che ben, diaetto istroveneto, può stare che ben, perché in realtà è la varietà dentro il sistema della lingua veneta. Ma se si dice diaetto veneto, è come dire diaetto francese. No, non è possibile, perché genealogicamente è la lingua tutte sorelle, il Veneto è la lingua sorella dell'italiano, del catayan, del spagnolo castigliano, eccetera, del francese, e dopo, eventualmente, all'interno che si è le sue varietà. Da dove si è che viene sta lingua, il nome della lingua? E viene dalla Venetia, però adesso ve la faccio vedere, quindi questa parte è a salto, e si è un secondo ragionare su veneziano e veneto, perché bisogna mettersi in chiaro, cosa che vuol dire, e perché in inglese si chiama Venetian. Se uno lese Venetian in inglese e dice, vabbè, vuol dire che si è venezian. Ma cosa vuol dire Venetian? Andiamo a vedarlo. E adesso andiamo a vedere perché, andiamo a vedere perché, anche in grego, andiamo a vedere perché, è una questione in realtà storica, non è una questione, insomma, il problema è la parola venetian, cosa che vuol dire. E dove si parla ancora qua? Se solo, abbiamo messo cinque stati, parlando solo delle comunità, diciamo che va impiantare la lingua da secoli, o comunque la va impiantare in maniera originaria, dopo vedremo qua gli altri stati, però veniamo a parlare anche brevemente prima, non solo in Italia, in tutte e tre regioni del nord-est, ma anche in Slovenia e in Croazia, a volte non serve che vi lo dica, però anche in Messico e anche in Brasile, dopo nemmo vedalo. Quanti sei i parlanti? Grosso modo sette milioni, non che se statistiche però, a occio e croce, i parlanti attivi se sette milioni, i parlanti interessai, potenziai se il doppio, specialmente per il Brasile. Ok. Ecco il discorso dei soliti studenti che domando, ma perché secondo voi altri, che se in Istria se parla Veneto? Beh, in realtà, tanti mi risponde, perché che se era Repubblica di Venezia? Giusto? Però se ne andremo in Drio, è una cartina che è molase del grosso modo del Cinquecento, della massima espansione di Venezia, del Stato Veneto, della Repubblica Veneta, e però, quindi, vedi che dentro, che se sia Lombardia orientale, che anche l'Istria, chiaramente. Ma se ne andremo, invece, a domini anni fa, qua, che temo la regio decima di Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, che divide l'Italia in Undas e Regione, la numero dieset, paraltro la più grande, la si chiama Venetia e Tistria, e la contiene l'Istria, ecco, che è geograficamente separata, ma la contiene. Ora qua, dei soliti studenti, io domando, ma come mai, secondo Valdi, che sta regione qua, vabbè, a parte l'Istria, che comunque, avviene ognuno insieme, perché si chiama Venetia? E ora, la risposta, diciamo, immediata, è perché che si è Venezia, no? Eh, è peccato che no, che si è Venezia, due anni fa, no? Com'è che sappiamo bene? E perché si chiamava già Venetia? E perché esattamente il primo secolo, esiste in latin, anche prima, la parola venetiani, quando che Venetia, come si chiamava Venetia? E perché in grego, anche quando che l'impero va avanti in Oriente, la si chiamava Venetica, che è la stessa, praticamente Venetici, sostanzialmente, però riguarda tutta la ragione, perché in realtà, semplicemente, Venetia vuol dire dei Veneti. Eh, banale. Vuol dire dei Veneti, così come Gallia vuol dire dei Galli, Venetia vuol dire dei Veneti. Boh. Altre robe da dire? No. Sta cartina qua, che avevamo fatto, che abbiamo sovrapposto, grosso modo, due anni di storia. Vedi, il bordo rosso, c'era il suo Veneto, d'Ancò, e il bordo, c'è questo un po' picciaro, adesso purtroppo, questo qua non si riesce a pontare ben. E se il Veneto, dal mio 815, al mio 860, quando che l'entra in Italia, quello in asuro picciaro, non so se lo vedi, che l'è grande come il Veneto, il friguli, praticamente. Anzi, sta a regione, un Veneto, anche se è anche sui Atlanti, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Veneto, fino all'istituzione delle regioni, nel 1970, alla regione Veneto, e il Veneto, c'era quello. Quindi, quando si parla dell'immigrazione veneta in Brasie, c'era dentro anche i furlani, perché c'era Veneti, dal punto di vista, diciamo, amministrativo, in senso lato. Il bordo più grosso e più scuro, c'è la massima espansione della Repubblica Veneta, grossomodo, tra i miei 500, prima della Lega del Cambri, e se ne altri, guardiamo la zona in verde, c'è la regio decima a Veneti, a Etistria, quindi Domiani, e se guardiamo la diffusione ancora della lingua veneta, è bande con le orneranze. Quindi, se mi guardo Domiani, la storia, e tengo focus qua, ecco, se hai toccato la roba, che si chiama Veneto, Veneto, Veneti, e se mi andasse ancora più in rio, rispetto alla Veneti, a Etistria del 2000 anni fa, e andasse in cerca di reperti dei Veneti antichi, lì cattaria proprio in questa zona della tua è Veneto, sostanzialmente, a nord, fin a Lagoe, e a sud, fino al Poesine, fin a Verona, fino a Quileia, e la cattaria reperti dei Veneti antichi, che risai a 3.800, 2.900 anni fa. Quindi, per parlare di qualcosa che sia Veneto, compresa la lingua, bisogna ragionare de sto nome dei ultimi 3.000 anni. Ecco la difficoltà di mettere insieme i tocchi, perché c'è tanto da mettere insieme. I posti dove che si parla Veneto, in particolare Brasile e il Messico. Vedi che qua c'è il Monte Grappa, tra la provincia di Treviso e di Vicenza, però, se si sta in Brasile qualche volta, vi invito prima o dopo a andare, può dedicatare due comunità dove c'è il Monte Grappa da Drio. una c'è Nova Udine, i furlani che hanno il nome del posto e a parte Veneto che hanno detto beh, non ti chiediamo il nome a montagna più alta, è alta 350 metri, tipo, c'è il Monte Grappa. E dove c'è un altro Monte Grappa, secondo voi altri? Parea più grossa possibile? In Messico. In Messico, da Drio a Cipillo, c'è una coinetta che si chiama Monte Grappa, anche a quella. Quindi c'è tre, anzi quattro Monte Grappa in Tel Mondo. Dopo, non savi che c'è comunità che parla Veneto in Argentina, in Venezuela, in Cile, in Australia, in Canada, e se fai iniziative anche là. Ecco, in verde, le lingue neolatine che derivano la latin, in ble, le lingue slave, in rosso, le lingue germaniche. Vedi che l'area veneta, aga sto, ho particolarità qua, che linguisticamente è seccata, storicamente, sul punto di incontro delle tre macrofamiglie indoeuropee. Cioè, siamo una lingua neolatina, il Veneto c'è una lingua neolatina, che però, a nord, a confina col mondo germanico, e a est, o sarei meglio dei neatri, a confine col mondo slavo dal punto di vista linguistico. Par de Pi, grazie alla potenza del Dogado Veneto e di Venezia, arriva dal via mare paroi greghe, che altra grande famiglia, diciamo, non è grande, però, famiglia grega arriva attraverso il mare. E, questa roba è un coefficiente di interesse abbastanza ampio, perché tratteremo di elementi angasermani che oltre a parole di origine grega dentro il Veneto, per esempio, è il Piron, banalmente. Sai via cosa che è il Piron? Non ancora? Perfetto. Cosa sia una lingua dal punto di vista, qua che abbiamo visto dal punto di vista del senialosego, cioè, la senialosia linguistica da dove venia viene dal latino direttamente, quindi non è il fiore dell'italiano, semmai il soreo dell'italiano e del Toscano. Dal punto di vista tipo eosego linguistico, cioè come si è che è una lingua, è una lingua che deve essere fatta da queste quattro robe qua. F è la fonetica, L è la lessego, che parole che do parito, disito forchetta o Piron, no? Dico Piron. E dal punto di vista fono eosego, non so, carreghetta, gala doppia o no? Fonoeosegamente, non gala doppia, ecco, questa è la questione del suono. Morfiosia, come sei che mi costruisso le parole? A partire da un nome, come faccio il diminutivo di quel nome là, di solito? In italiano si puoi dire casupola, in veneto non si può dire casupola, se dice casetta, se dico casina, mi viene in mente che casinza è un'altra roba, capito? Boh. L'ultima roba qui, la più importante, è la sintassi, come sei che mi costruisso le frasi? Syntaxis in grego, mettere insieme, syntaxis in ordine, come sei che mi costruisso la frase? E se il Veneto è diverso in tutte queste robe qua, e lo sei, evidentemente il Veneto, pur con le diversità. E la, a liveo interno, è una lingua differente, ma che il Veneto sia, se è logicamente una lingua differente dell'italiano, è indubitabile, sicuro, e lo sa tutti. Che il Veneto sia una lingua tipolosicamente differente dall'italiano, cioè che la sua struttura interna, questi quattro piastri, sia diverso dall'italiano, parecchio diverso dall'italiano, lo conferma a tutti, che se è nessun linguista, nessun linguista, lo dico da nuovo, nianca un linguista, che il diga che il Veneto è un diaetto dell'italiano. Nessuni. Perché abbiamo ancora diaetto? Perché questo è il terzo punto di analisi, di questi tre assi del lavoro, il punto che upivissima il mondo poetico, il punto socio-poetico. Il Veneto viene considerato un diaetto perché per lei non si può fare certe robe in Veneto. per esempio, in Veneto non si può fare il Statuto del Comune, non si può fare una legge del Regione Veneto scritta in Veneto, ma perché il Veneto non è buono, non è in grado di farlo, o perché non si è in grado di farlo? Perché se non temiassi farlo e dopo ti dici che non sono buono di farlo, ti dici che non sono buono perché non temiassi. voglio vedere che proprio il Veneto con l'esperienza del Stato Veneto che aveva Statute di Commission tutto scritto in Veneto dopo si arriva anche all'italiano e anche al latino contemporaneamente però se è chiaro che il Veneto si era in grado di fare anche diritto lei giurisprudenza è evidente forse è una delle poche lingue che si era in grado di farlo però non si può dire adesso che non era buono di farlo è evidente che si è buono e perché non lo fa perché per lei si è impedito ecco dal punto di vista socio-linguistico chiaramente l'ha influenzata dalle scelte poitiche ecco quindi l'unico asse dove il Veneto viene contestato come lingua è quello socio-poitico però se hai i stessi professori che dice che il Veneto sia un dialetto se che domanda ma dal punto di vista genealogico è un dialetto eh no dal punto di vista tipologico è un dialetto eh no e allora la scienza dice che è una lingua dopo sia politica vuol dire che sia un dialetto vabbè fin l'altro dì fin quanti settanta anni fa le donne non poteva votare e quindi era sbagliata basta quindi se fin adesso che mi ha detto che il Veneto sia un dialetto è è sbagliata basta bisogna dire che sia una lingua perché mi capisco che sia un'assurdità dire che sia un dialetto mi sembra abbastanza evidente ma delle volte che vuoi infiate battaglia ecco per far capire robe più 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 basilari stessa mappa di prima veniamo avanti ecco qua questo qua invece è il De Volgare Eloquenza di Dante il mio 305 e sabì che per cercare la futura lingua italiana anche se non puoi sapere se funzionava o no lui va a cercare un volgare illustre curiale aulico e cardinale caratteristiche illustri ecco della lingua che aveva da trovare però che fosse volgare cioè la lingua del popolo e prima di dire anzi le passa tutte e dice che nessuna delle lingue che esiste in Italia ha illustre curiale aulica e cardinale ma quello che non interessa neanche a parte quello è che lui riconosce in Italia ad minus quattordecim lingue che è quattorda se lingue in Italia una è quella dell'area veneta attenzione perché lui censisse anche praticamente l'istriotto ok ma però vuol dire che in Italia in termine 300 l'italiano esisteva perché intanto se lui lo cerca in olocata vuol dire che se è seconda roba se Dante è il padre della lingua italiana è abbastanza vero anche se dopo diciamo che l'italiano sta in grado di imporse grazie anche a Bembo e potremmo dire anche a Manzoni vabbè non stiamo a versare il discorso se qualche di un di voi che imparliamo dopo però vuol dire che l'italiano 700 anni fa non che si era e se no vuol dire che tutti gli altri nessuno sapeva l'italiano quindi o gli erano tutti muti o ognuno parlava la sua lingua o no no diffusione del Veneto in tel mondo qua vi faccio vedere grosso modo robe che sa evidente però tre rayon più voendo bisogna dire che anche in Sardegna che sia la comunità di Arborea che sia anche una delle altre che sia la comunità comune onorario del Veneto e in Brasie in Messico Cipilo ecco e dopo vabbè qua sa via e varietà del Veneto una roba particolare che anche a questa roba qua vi è incontestata però vi è incontestata sui giornali dopo sui manuali universitari a livello accademico non vi è mai dito che non esiste il cosiddetto Veneto centrale cioè è il Veneto che ha tutte queste varietà qua e va bene cioè quasi 4 milioni abbondanti dei parlanti quindi è evidente che sarà delle varietà interne però rispetto a altri cosiddetti di aetti il Veneto ha una caratteristica particolare che esiste è il Veneto centrae cioè esiste una varietà sovramunicipale che dentro ai manuali universitari di dialettologia per esempio avvince amata coine cioè in Veneto esiste una coine linguistica il Veneto è il caso tipico di coine cosiddetta dialettale cioè e parlare delle diverse città e cittadine in tei secoli dal 400 in vanti e si affondano insieme creando un enorme bassin maggioritario dal punto di vista della quantità dei parlanti oltre il 50% che parla praticamente la stessa roba solo chi che vive dentro si incorse della differenza tra un posto e l'altro come che vedi non l'include il Venetian però il Venetian è fatto da guida in questo e si è da discutere anche di questo perché il Venetian stesso è frutto di una coine se Venetia ha un posto fondato da chi che scampava progressivamente in dei secoli comunque si è trasferito verso le lagune sia per l'invasione barbarica ma anche per altri motivi in quel tempo chiaramente a Venetia si è incontrato per la prima volta tutti insieme casa a Drio Casa gente che abitava in Cadore e vicina gente che abitava a Padova e chiaramente a Venezia si è formato un processo Ferguson di coineizzazione cioè le varie varietà venete si è accattare insieme sul stesso posto e il Venetian è il prodotto dell'intercomprensione di queste varietà che si è allivea a generare il Venetian quindi il Venetian stesso è frutto dell'amalgama delle varietà venete dopo il farà appena che si è consuida si espanderà il Stato Veneto nel 1400 e sarà l'occasione di amalgamare linguisticamente il Veneto senza accademie senza niente ok questa roba in Italia non è mai successa in realtà perché non c'è questa un'amalgama progressiva della popolazione c'è questa una diffusione a Ombrea quindi a Paracadute l'Intelletto ha cominciato a parlare la lingua però ricordatevi che nel 1870 in Italia si aveva l'italiano il 2,5% della popolazione vuol dire 1 ogni 40 ed questi 2,5% della popolazione in totale 2 terzi si era solo in Toscana provate a immaginarle cosa vuol dire 2 terzi si era in Toscana vuol dire che fora si aveva l'italiano 1 ogni 80 persone e non si è che qui andava a rompare le scarpe le scarparo e parlava in Toscana letteraria perché non si era mia buona mi sono dell'88 ho 35 anni e mi in casa non ho mai parlato l'italiano e quindi e quanti di niente questa esperienza ma non per questo non siamo in grado di insegnare l'italiano Manzoni pensavo che casa parlasse in Toscana con chi sai perché l'è andato a sciacquare i panni in arno lo sai perché perché io dicevo i tosi che lo facciamo a quarantana a ventisettana sì bello ma cosa è successo in mezzo cioè andiamo a vedere i so diciamo i so scritti anche linguistiche perché si occupa tanto Luca occupa anche un dizionario che è stato edito postumo da lui dall'ex ministro se non mi ricordo il nome e nuovo dizionario vocabolario della lingua italiana e lui visto che lui non aveva mai avuto l'occasione di imparare l'italiano e il toscano da mare lengua cosa che aveva fatto è che ha tolto una babysitter diserissimo gli altri poi fioi toscana e ciò lui pensava che arrivasse una che parlava come Dante e invece e no è buono come è buono si è scritto buono su tutti tutti i testi che io ho studiato è scritto buono questa qua mi arriva e dice buono nuovo perché e quindi cosa che io tocca fare cioè parlare vaise e andare a vedere cosa che gli dice se sei matta ea se sei un ignorante perché o se anche gli intellettuali toscani dell'ottosento quindi la classe alta parlava come sta qua e si parlava come sta qua neanche diciamo buono nuovo anche se è una roba buona anche se una cosa buona in lingua italiana non è una buontà una cosa nuova non è una nuovità giusto eh e perché che si sta buono perché che si era in te il trecento non ti imitiamo i scritti del trecento insegniamo l'italiano basato i scritti del trecento sa ma chi aveva l'inter cinquecento e dice buono nuovo come buon e nuovo in veneto o nuovo addirittura ecco che neanche si vengono insegnare il toscano del trecento eh dobbiamo saperle queste robe se parlava del toscano vivo o del toscano morto a fine che ha vinto il toscano morto perché non il parlava e quindi era beocrista e pronto da insegnare perché era morto ero un po' sconvolto però fa bene comunque ogni tanto fia di battare fa bene allora si che se tante varietà che mi ho detto in te ma al fine se sempre le stesse robe vediamo qua veneto centrali è il posto dove si dice cinque ok ma se mi posso a Verona e dice cinque io stesso se mi qua a Venezia e vi fuora e che dico un sprit e mi dice cinque eh perché anche se che se varietà interne che linguisticamente si è in grado di capire che è varia se si fermiamo sulla gran macro varietà quella più grossa diciamo quella che Areccia si sente subito abbiamo tre varietà del Veneto una sequea di qui che dice cinque una sequea è la sequea rossa e vedi che anche l'istria che ne fa parte una parte di qui che dice cinque qua c c del tsunami per capirsi e una parte quella in in zio di pochi parlanti grosso modo il cinque per cento dei parlanti ha dice cinque con la f e ora in questa parola qua c'è tre varietà possibie una ha parlato del cinque per cento cinque una grosso modo dal vinti cinque e quella che dice cinque ha parlato del settantacinque per cento a spanne dei parlanti e tutto il brasil dice cinque era che abbiamo bisogno come mi domandava la tv capodista che abbiamo bisogno di una standardizzazione oddio è stata pronta questa roba qua perché non do parare quello che è stata pronto ecco adesso si è assolutamente incredibile che qua sotto cioè se io capirmi sicuramente senti che non so da buie ecco neanche da un mago e chi che è venesiana sa che non so da venesia perfetto però se non si che serve i sottotitoli sotto per capire cose che so che dire no va bene quindi e varietà in realtà sono solo tre e sono sempre le stesse e sono tre non sono tante altre se abbiamo il bionese paradossalmente è diventa do e quei pi super maggioritari sono qui anche se la z è proprio interessante è la stessa del spagnolo se qualcuno di altri parla spagnolo savi che cinco è cinco se va a madrid dice cinco cinco è in la plaza e invece a buenos aires si dice cinco è in la plaza se va a bionese dice cinque in piazza e se va a Vicenza a Verona a Venezia a Padova a Buie dice cinque in piazza o no era così difficile ogni comune cambia ogni famiglia se mi sveglio mettendo il piede dretto parlo in un modo no non è vero è sì diciamo presudici linguistici chi che liga a favore chi che liga contro facciamo fuori i presudici andiamo a vedere le carte in toia andiamo a vedere quasi una una session di robe a livello foniosico di diversità tra Veneto e grossomodo l'italiano o meglio derivando dal latin niente doppie vai in capo altri e il nesso cilatino cita cittadin centro sima se uno mi dice se andai in centro e mi capina ha detto però voi insima è ora che se uno è italianizzazione perché se voi insima è ora se centro cittadin cinquanta cinque piazza ok quindi anche questo che si deve dire delle volte alcune varietà è solo perché su una parola imito l'italiano non si sa perché e su un'altra resto Veneto foneticamente parlando stessa roba la G sente zero adesso a me mi sembra dire giro però zero se la parola è corretta una delle poche diversità che avevo altri la di via fonosico se sta qua portigo manigo in tutto il resto della venetofonia tutta cattare portigo manigo e attenzione che non cattè nient'altro che portigo e manigo quindi non si può dire che cambia dal comune a che altro non si è vero che si è alcune varietà tipo a vostra che immediatamente in maniera riconoscibile fa una roba differente ma non tanto diversa perché disi manigo ma tutti disiamo figo amigo intrigo e si è chiaro che si è partita meraviglia meraviglia maraviglia questo sbassamento è spesso in veneto però anche in venezian si dice meraviglia però si è anche chi dice maraviglia per esempio la l tagliata parlavamo prima la vocalizzazione della l dove si è che cattano la vocalizzazione della l cioè la l che tende a diventa e gondoea o sparire gondo e a seconda della vocalizzazione e a catemo torno in Drio sua zona rossa anche a solo vigotto gode escludere però parte del veronese dell'adese sta l attorno a dura quindi volte disi non so una bella canzone bo e dove sei che sentirei dire una bella canzone lo sentirei nel suo alto vicentino sul beunesi sarà una bella canzone ma per resto grossomodo tutti quanti gli doparerà bea ok il suono sce non esiste scemo diventa semo giusto il non esiste quindi il suono dell'italiano che il veneto non ha mai nessuna varietà e il suono l'ye in italiano che deriva dalla l in latin in veneto diventa o ancora in venetian è diventa gi e ora parlando con chi che parla venetian spesso sei convinti che sia una creatura specifica del venetian se mi vavo in del cinquecento torniamo in del cinquecento anni catemo e ora attualmente si dice famiglia dappertutto si dice fameggia in venetian se mi vavo a guardare i testi del mie cinquecento cinquecento anni fa catarò che in po dov'an si dice fameggia e e ora c'è tutta sta varietà no bisogna che se caviamo dalla ignoranza del pregiudizio perché c'è vero che c'è tanta roba da studiare però c'è e siamo buoni di studiare andiamo a vedere sarà perfettamente normale che si possa dire fameggia e fameggia e che possa convivere queste due possibilità perché in italian come se dice famiglia tutti dice famiglia quanti sei che dice come che il discorso 5 5 5 5 che abbiamo visto in spagnolo adesso vi domando questo numero qua come che si pronuncia in italiana 5 e il 45% dei parlanti italiani dice 5 che altri dice si mai in corti non guardiamo mai a rai mediaset 5 i cittadini e non sei che cosa scomodare la gorgia toscana perché la gorgia toscana è regione toscana queste robe qua 5 i cittadini la civiltà come si scrive la civiltà mi spiega io si mi penso si 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 ora cosa succede in italian scolasticamente che insegniamo a scrivere in modo è dopo a seconda è come che uno che gira la pronuncia è diversa e ora o l'italiano è un diaetto perché cambia o tutte le lingue cambia e quindi se anche il veneto cambia non è che diventa un diaetto per quello il paradosso che dicevo prima la tv capodistria è il paradosso che non conosciamo così bene la nostra lingua che siamo in grado di fare che pulsi no paradosso perché per sapere l'italiano corretto dal punto di vista della pronuncia parlo bisogna studiare addizione bisogna fare teatro o come nel caso mio studiare addizione per canto lirico e quindi l'italiano cambia sì lo insegniamo gli stessi sì quindi se anche il veneto compreso il nostro veneto cambia possiamo insegnare gli stessi sì se può se può sparizione dei consonanti vabbè robe che se avevamo i primi studi che abbiamo fatto era sto manomai universitario che se oh signor benedetto beh no ma sì mesoretta finimmo anche perché vorrei i vostri contributi i vostri domande solo e tutto questa parte finale però questa parte introduttiva mi sembrava importante per fare l'insoasamento l'inquadramento della questione sto qua è il primo manuale universitario scritto in lingua veneta do parlando che varietà è il veneto centrae ok come proposta del macro standard il stesso è il teorisa dentro è il multistandard cioè che ogni varietà la posse scrivere esattamente la sua propria varietà ognuno scrive ed opera il suo dopo chiaramente se se vesse come che mi ha domandato generare un standard dell'istro veneto beh se se ritieni che sia necessario se puoi farlo se puoi dare indicazione che non vuol dire che non si può cambiarlo che non vuol dire che non si può ilpidire che è roba là però quando che mi su tutti i dizionari dell'istro veneto ho toccato la parola balanza e mi dici bilancia quello non va bene se puoi cosa fare ma mi dico così eh lo so ma benedetti cioè mi dico mi invento la parola mi però se su tutti i dizionari è quello se c diventa s perché dico cinque e non dico eh bisogna fare una opera di poesia di mettere in ordine le robe purtroppo si dice quello quindi è vero che se parla mi parlo così però come che in italiano progressivamente seguiamo corretto rispetto alle nostre abitudini pensate a concordanza ad sensum no la maggior parte sono andati la maggior parte sono singole aree quindi mi piace che ti ho dici ti se ti vuoi dire a tua mamma a tua nonna a tua sorella a tua morosa o tuo papà o tuo mario o tuo frate o tuo figlio però non ti puoi insegnare questa roba qua perché si è sbagliato giusto e ora come che in italiano abbiamo detto su abbiamo avuto anche negli altri e abbiamo guardato e stare a sentire beh diciamo che abbiamo possibilità anzi conviene farlo anche non dico in laguna ma insomma in tel marcomun che abbiamo in mezzo primo studio universitario 2016 vedi università di francoforte abbiamo studiato il confronto tra veneto francese portoghese catania romeno portoghese e spagnolo in modo da vedere il veneto come che si inserisse in sto quadro qua abbiamo fatto la pimpa va a venezia è stato doparà anche la buia che abbiamo fatto delle piccole attività su chi testi là poi ve ne parlo tutto in veneto anzi in particolare qua visto che c'è la venezia che abbiamo fatto in venezian ok quindi anche per far vedere che si può scrivere in tutte le varietà nel del 2000 di 7 in occasione della giornata mondiale unesco della lingua mare che abbiamo fatto il primo convegno internazionale sulla lingua veneta vedi docenti universitari di Padova di Venezia il professor Mosley dell'unesco che cura l'atlante mondiale delle lingue dell'unesco e parlistro veneto la professoressa Todorovic e dal Galles Paesi Bassi insomma abbiamo fatto veramente un bel un bel un bel convegno alla fine del 2007 sta ufficializzata la commission grafia la seconda commission grafia la nuova grafia ufficiale della lingua veneta che è la grafia internazionale del veneto moderno e che è quella che si può doparare per descrivere qualsiasi varietà questo qua c'è il sito linguaventa.net del consigliore di Unae del veneto e dentro seccata varie risorse sulla lingua veneta ma solo di tutto per quello che so io dirvi appunto seccata è l'alfabeto moderno della lingua veneta perché moderno? perché sono miei anni di storia della lingua veneta e ciò la scrittura cambia in tante volte è normale guardi pensavo che la divina commedia di Dante fosse scritta come che si è stampato sui nostri libri di letteratura sulla prima edizione a stampa l'edizione del principe del foligno nel mezzo del cammin di nostra vita è scritto cammin con la mso e mezzo su una su che versione l'ha scritto con una z e su un'altra è scritto così con la sedia un'altra di pochi anni dopo e non è quello di Dante perché non chiamo niente di autografo di Dante e ricostruendo come che si scriveva il Toscano in tel 300 e guardando anche i testi veneti del 300 di sicuro non è come che si è sui nostri libri e ora cosa si è fatto l'italiano senza dirlo è che ha fatto riforme linguistiche come si è che si scrive il tedesco è che ha fatto si se l'anglese che ha ossessionato è fatto riforme si se cerchè l'Oxford Dictionary of English che è che è anche l'accensimento storico delle parole che è sedase versioni diversi delle parole heart adesso che c'è tenenzialmente una pronuncia standard un modo esatto di scrivere la si è censito sedase modi diversi di scrivere e di conseguenza quasi sempre anche di pronunciare le parole quindi se c'è la necessità in quel tempo ma non da adesso in realtà negli anni 70 quando che per esempio sono solo la L tagliata e adesso mi capisco che tante volte mi viene date dei meriti che non ho manca dei colpi però negli altri dell'accademia abbiamo fatto queste cose qua l'uso della L tagliata che si comisi a fine anni 70 quindi e tutte le commissionografie istituite dalla region veneto tutte do e che adoperà un principio descrittivo cioè se dico piazza scriverà piazza se dico piazza scriverà piazza se dico piazza scriverà piazza e i membri d'este commission la prima dico per esempio che si era diese tra professori universitari e altri esperti di altro tipo e parliamo del cortellazzo canepari zamboni chi che ha fatto studi linguistichi e sa di chi studiò parlare e che adotta un punto di vista descrittivo cioè ogni varietà che ha da poter essere descritta autonomamente e sta roba dal mio punto di vista è molto veneta perché ognuno ha la sua autonomia linguistica e non va a cavare niente del fatto che i piastri della lingua sono soidi non sei che perché descrivo diversamente e ora c'è un'altra lingua no no c'è una fesseria quella i piastri sono talmente soidi che può amassarsi alla libertà repubblicana che ognuno scrive quello che dice lui pur che parla puitto che non dica è scheresia no ecco anche Telegram in Veneto LibreOffice in Veneto segui do parare Word ecco a pagamento segui LibreOffice in Veneto e ora c'è scritto descarga c'è scritto versi la diapositiva sarà il documento ok c'è fatto in macro standard però c'è LibreOffice che è l'office gratuito praticamente non da Microsoft ma open source c'è c'è questo parlare del Veneto anche in Cina è capitato di fare anche questo in Brasie abbiamo fatto il primo corso del Veneto a livello universitario quindi se puoi farlo pian pianetto si sarà anche qua questa cosa vuole perché grammatica da scarse della lingua veneta fatta anche qua con l'università della federale di Santa Maria in Brasie il secondo convegno sulla lingua veneta la maratona veneta che se sento i rotti video su internet gratuiti sulla lingua veneta può essere usata come risorse i ci appassi le parole e le analisa ok se qualcuno vuole che se vuole un link tree che se vari link da varie robe in caso dopo tramite la Mariana eventualmente se puoi posso passarvi una parte di queste robe veniamo al clou della question avete domande fin qua poste domande perplessità arrabbiature affrancamenti dica simia simia non può lessa ah brava si si no aspetta non go troppo torto eh non go troppo torto no no adesso ti spiego in realtà si si mi ricordo mi ricordo sta roba e ne parlaimo riguardo una canzone dell'istro veneto non mi ricordo di chi che doperava veramente la s allora non è una s palatale è una s impostata in maniera diversa vi spiego la s che neanche che mi in mente è la s la s dell'italiano la s dell'italiano ha a a ponta la lengua si in ponta si ma si si questa è la s dell'italiano si già il veneto di qua che è una mese non una mese via è più basso e dice si la s ha risalto da drillo i denti sotto non su quei ora ha sempre una s ma è diversa in realtà anche amico memoria di qua è una s molto più pastosa ha una s non ha una sh in realtà ha una s con una lieve lateralizzazione che fa sembrare sh ma se devi analizzarla con una praticamente tipo una tomografia cioè ti vedi il piano sagittale come che si muove non ha se una s palatale ecco che ha una carattura diversa che ha re sembra palatale ma non lo è è sempre una s dopo le robe va a studiare in complesso e non si può escludere che in passare esistesse la sh come suono però attualmente non la che si ecco quindi è una s è un fila differente che si è disposto a giurare che il veneto ha le doppie perché si sente la s bea fissa è vero che si è più fissa della s dell'italiano la s dell'italiano si imponta la s del veneto si è verso il dadrio della lingua e si è più largota si è più largota in effetti e ora uno sentindo che si è più che si è geminata ma non si è geminata in veneto non si è doppia altre domande allora language planning and policy pianificazione e politiche linguistiche come che vi dicevo i tre assi è status corpus acquisition quindi tutte le robe che avevo fatto vedere prima e riguarda sostanzialmente la status della lingua cioè che per se sia un gemmo della lingua dal punto di vista generalosico dal punto di vista tipo eosico e dal punto di vista sociolinguistico siamo gemmo capio o la popolazione gaia capio che il veneto è una lingua diversa dal punto di vista tipo eosico cioè che ha caratteristiche diverse c'è tante altre robe da dire però queste intanto le persone gaia capio che il veneto non deriva dall'italiano ok pian pianetto se gaia va a far capire queste robe perché perché se se vuoi insegnarlo il veneto bisogna fare anche dei passaggi verso l'acquisizione però bisogna anche spiegarle alle persone perché ga senso parlare della lingua ed è conseguenza perché ga senso insegnarla e come che si può insegnarla la cosa che ha serve anche perché se pensiamo di trasmettere un patrimonio dicendo che non serve a niente o pensando a noi stessi che non serve a niente al tempo tratto via oltre che un errore perché serve davvero in realtà e ora differenza acquisizione linguistica e apprendimento che abbiamo già detto l'apprendimento se quando che c'è insegnamento e il resto invece se acquisizione anche spontanea sull'asse del come che si acquisisse cioè come se che trasferimo sta lingua in tel tempo è il cosa la lingua può essere doparata come contenuto e può essere doparata anche come meso mi poteria insegnare matematica in in istroveneto perché 5 e 5 fa sempre diese non c'è che se lo dico in veneto e fa un altro numero giusto se poteria liberamente tra l'altro il primo trattato di algebra anzi no di algebra ma che se è una parte anche di algebra insomma dell'aritmetica è l'arte dell'abbaco del mio 473 anche ha detto l'aritmetica del treviso è il primo a livello mondiale è qua è scritto desena centenaro e spiega come che se fa il calcolo non c'è roba da poco come se che se può insegnare intanto sul piano pedagosico di conseguenza scuola dopo però bisogna ricordarsi che se può insegnare anche in andragosia agli adulti pedagogia andragosia insegnamento agli adulti e metodologie qua se se stesse dell'apprendimento delle lingue straniere delle lingue foreste se puoi insegnare l'inglese col metodo grammategae come che se fa insegnando latin per esempio e ora chi che ha studiato latin il 99% non ha mai parlato latin e ora si è puramente grammatega e mi ha avuto la fortuna ai superiori che a Mescoia faceva la sperimentazione del metodo scandinavo di conseguenza la prima interrogazione del latin a ottobre della prima superiore avevamo parlato in latin con i rudimenti di quello che sapevamo però Roma in Italia Est Italia in Europa Est però al manco non ti parlavamo e quindi per la lingua patrimonio che può essere conosciva da tutti gli studenti della classe perché anche quello bisogna considerarlo come anche no qualcuno non 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 conoscere la lingua a seconda della quantità e della tipologia se puoi variare l'approccio per esempio se puoi sfruttare le competenze dei parlanti istroveneto e fare una mini flipped classroom con dei rudimentari dialoghi quindi metodo comunicativo creando dei dialoghi domandandogli di mimare se puoi fare una gamification ne parleremo assi nel prossimo slide domandandogli che chi che sa la parola è il mima la parola per gli altri quindi se puoi valorizzare anche le diversità di competenza linguistica chiaramente se puoi coinvolgere anche altre lingue che uno conosce o uno non conosce intescrivere qualsiasi lingue quanto bevano sarebbe che facendo l'italiano se potesse confrontare la grammatica del veneto con quella dell'italiano nelle singole varietà e confrontare per esempio la grammatica dell'inglese con quella del veneto so che sia una roba strana però si può fare anche quello pensare ai verbi frasai che sui nostri libri scuosi i verbi sintagmatici non so se vi presente la categoria far su per costruire no guarda caso in inglese se si dice build è proprio up capito cosa esiste qua è una roba che esiste in veneto esiste in inglese non esiste in italiano per esempio non esiste in francese ecco magari altri esempi che si può fare essere qui benedigo degli altri dopo comunicativo intercomprension quindi il rapporto tra una lingua e che altra anche a livello di suono e a livello di ortografia se puoi fare veramente tante robe CLIL dicevo prima se puoi fare matematica in veneto ma se puoi soprattutto magari fare non so geografia fare dei singue unità e costruire dei materiai per fare dei singue unità anche di insegnamento di storia veneta per esempio in veneto con materiai già pronti scritti in veneto da poter doparare chiaramente dopo i sarà prodotti in veneto centrae ma niente impedisse come che d'altronde l'insegnante spesso che tocca fare per personalizzare i percorsi e niente impedisse di personalizzare anche l'aspetto linguistico oppure di creare un piccolo team che va a portare all'istro veneto i testi doparare studenti più esperti in te a lingua perché diventa tutor degli altri fare un progetto di traduzione magari ne parliamo adesso progettualità anche interdisciplinare con a lingua musica arte quante robe si può fare con la musica o anche in italian quante robe si può fare a livello teatro ma insomma adesso che ne parliamo cosa si che si è fatto invece per l'insegnamento formare e ora in veneto abbiamo doparà magari non posso domandare se mi porti qua il mesaino che ho dentro grazie scusami che ho dentro un po' che è da farvi vedere percorsi linguistici veneti e di cosa si parla è un percorso grazie percorsi linguistici veneti questo è un manuetto che abbiamo usato parase da 5 anni scolastiche che facciamo sta roba è un percorso da 5 a 7 lezione a seconda dei scoi di introduzione al veneto dal punto di vista storico sì ma soprattutto dal punto di vista linguistico come se gli articoli i non so gli aggettivi fondamentali i colori i numeri come se forma il singolare il plurale quindi costruire come se forma i verbi per esempio la terza persona singolare del verbo vardar lui il varda lori i varda in tutta la venetofonia stravano così in italiano lui guarda e si guarda no e si guardano l'unica lengua del panorama neolatin che ha la terza singolare la terza plurale sempre identiche sempre identiche ecco perché non si può dire varda soio non si può dire bisogna dire lui perché se no non si capisce chi che l'è e che altre lengue che ha il soggetto obbligatoriamente espresso l'italiano no l'italiano no perché ogni l'italiano ogni voce verbaia si diversa io guardo tu guardi e gli guarda noi guardiamo voi guardate e si guardano si e voce si e morfiosie diverse in veneto non succede questa roba qua tante volte guardate vai in capo a via altri in veneto centrae anzi in veneto base mi son ti tesi qua guardate che vi te ti son mi son ti tesi lui e il zè gli altri semo gli altri si lori zè ecco nella verità mia si e voce do e do si e ha coppie e si è chiaro che si è necessario avere dopo il soggetto avere prima il soggetto espresso che altre lingue fai così l'inglese il francese il todesco l'italiano fa sta roba il spagnolo non fa sta roba e sta roba qua vuol dire che il parlante istroveneto e veneto in generale dentro la sua testa ha una formetta pronta che si chiama vada che il soggetto serve non ti puoi ometterlo quando che l'imparerà l'inglese sarà sicuramente facilita ecco cosa che si è l'approccio interlinguistico l'intercomprensione sta qua sfruttare il patrimonio che ho no trando io via do parandolo facendo vedere che davvero serve però c'è la mente noanti prima che abbiamo da vedere con i nostri occhi che serve davvero e questo c'è un esempio come se che disivi altri sto andando a casa vado a fare il gerundio infatti mi ricordavo in tutto il resto del Veneto mi riserveria di fare qualche indagine però si dice son son drion no bon son drion dar ecco che a forma mi son drion dar mi son drion mi a son drion partir anzi è la stessa struttura del francese moi je suis entrant de partir être entrant de essere drion è esattamente la stessa struttura del francese ecco che chiaramente che spiego questa roba e dice ah però saremo mia questa roba i verbi frasai avvicinano all'inglese eccetera eccetera insegnamento formale della lingua quindi anche con una spiegazione una significazione cioè spiegare che è veramente importante non solo perché è la lingua patrimonio ma anche perché è la autità intrinseca e anche perché il nostro serveo l'è fatto per imparare più lengue l'è crea apposta per imparare più lengue il serveo del toso del tosato bilengue specialmente se è entro i sei anni cioè l'impara casa l'acquisisse casa do lengue è un serveo infinitamente tanto più efficiente di un serveo monolengue cioè capisce meglio come che uno con doci che vede meglio che conosce solo do lengue è la stereofonia del serveo dell'acquisizione ti riesce a sentire le differenze ti riesce a gestirle è sicuro dal punto di vista neurolinguistico che chi ha bilengue ha una veosità e una flessibilità mentale che favorisce anche il calcolo matematico non è solo un beneficio se hai una lingua in P ora ti sarai più bravo imparare altre lingue in realtà ti sarai più bravo imparare altre lingue ma anche qualsiasi altra lingua perché serve si abitua ad operare sia il piron che la forchetta su stessa coso sia il piron che la forchetta che era sbagliato ma è giusto e lei è abitua a gestire la diversità dopo parliamo tanto anche giustamente è o non c'è mia anche quella diversità e paraltro ricordiamo che questa diversità linguistica che ha il Veneto ha i miei anni su spai è come tra basso o sperare che crea un albero che ha miei anni però c'è qualche politico che riesce a far meglio storia della lingua dei veneti ha stata inaugurata qua dentro in consellore Ionae qua da basso proprio sua saia d'entrada sta mostra che vi faccio vedere e l'archivio della letteratura veneta online è una iniziativa recente adesso vi faccio vedere e c'è delle risorse online c'è una selezione di cento opere in lingua veneta di diverse varietà dentro che abbiamo messo anche due canzoni dell'istro veneto perché fa parte del corpus appunto della lingua veneta quindi insegnamento dal marzo 2018 che attacca a fare insegnamento del veneto sulle scuole il progetto è partito dopo si è affermato su altre scuole e dopo la fine l'insegnante si è accorto che era una roba utile perché gli studenti richiede di saverlo ecco vedere gli studenti che fa volentieri le le veneto descrizione del papagaio le varie robe che possiamo fare l'intervista ai segnitori imparare i numeri le routine in classe posso versare a finestra l'idea pagina 12 ecco tutte queste cose che fa parte dell'insegnamento della lingua solitamente foresta paradossalmente per le lingue patrimonio come il veneto dove siamo di fronte a un processo di lenta alienazione della lingua che la lingua che parli altri è una lingua propria per i più giovani se non sia trasmissioni intergenerazionali a diventa una lingua foresta e ne toccarà lavorare così dopo che sei dei benefici devoti di imparare una lingua come la lingua foresta anche se sia tua perché ti scommisci a strutturare un po' il pensiero sulla lingua per esempio sul paneo di snove della mostra la storia della lingua dei veneti che sei appunto il veneto parlante del mondo e chiaramente che sei anche l'istria ah sì è scritto proprio Festival Istro Veneto e dimmela cantando quindi che sì ecco questa quaga ha fatto un portanca la in nella comunità italiana e la buie è stata portata in varie scue teatri ville venete qua in veneto in provincia di Vicenza del Treviso e qua a Venezia archivio di letteratura veneta online è un progetto finanziato parzialmente da region veneto quindi sento opere rappresentative della lingua veneta in te diverse varietà ma anche in te diverse tiposie un trattato di astronomia in veneto esiste sì l'ho scritto in venetian no è scritto in padovan l'aritmetica del Treviso chiaramente ha un riferimento verso il Trevisano dal punto di vista linguistico il commedio di Goldoni chiaramente è in venetian però non c'è solo il venetian è anche il calcio sotto anche il calcio sotto fa parte del venetian linguisticamente Giacomino da Verona 60 anni prima di Viena Commedia scrive delle Babilonia civitate infernali e degli Jerusalem celesti quindi cosa c'è l'inferno e il paradiso descritti in veronese del Dosento che c'è traduzione della Bibbia che c'è trattato di teosia in venetian per esempio c'è il primo trattato scritto in venetian trattato internazionale c'è del mio 207 Dante c'è il suo 58 anni dopo quindi c'è materiale incredibile l'opera un trattato di storia dell'arte che viene parlando di storia dell'arte di Marco Boschini in mezzo 160 la carta del navegar pittoresco c'è in versi c'è lungo una volta emesa la Divina Commedia c'è tutto in veneto e io dice sulla prefazione all'edizione dice mi ha domandato perché ho scritto in veneto e non in toscano e lui ha scritto proprio queste parole qua mi che sono venezian e parlo di pittori veneziani e per veneziani intendeva anche chiaramente Giorgione che era Castelfranco il veronese Tiziano che era Cadorin mi che sono venezian e parlo dei pittori veneziani perché ho da andarmi stravestire e di fatto dice come che Petrarca e che ha scritto in Toscana la sola lingua mare come che i letterati latini non mi ricordo chi il nomina precisamente e che ha scritto in latin e guarda che opera che ha fatto beh mi schifarò come loro imito i grandi scrivo in te a me la lingua mare quella che non viene solo da qua ma anche da qua e da qua ecco una lingua completa e qui è anche una parte di didattica che è diese opere censie e quindi non solo censie e con la disponibilità di trovare il testo online perché spesso si è online ma semenai in siti diversi quindi qualche te ogni una breve spiegazione è dove è secata il testo gratuitamente tipo questo di Marco Boschini secata facilmente su Google Libri però se uno non sa dove che l'è e non sa che l'è come fai a catarlo ecco perché nasce questo piccolo progetto comunque veramente interessante didattica una diesina di opere sessionale con la proposta di lavorare che solo una proposta didattica per lavorare con la singola opera in diverse materie quindi esperienze di insegnamento anche a formare da lingua cioè con l'obiettivo di insegnare la lingua conscientemente però che sia anche possibilità di insegnare la lingua in maniera obliqua cioè per esempio diciamo che il principio deve essere sempre quello dell'autenticità goda a creare un prodotto che sia autentico perché sia significativo e goda a creare ad avere un processo che sia autentico che sia delle cerca per esempio guardiamo le canzoni canzoni popolare che esiste già magari posso insegnare i putei a sto testo con la scusa dell'insegnamento di insegnare a cantarlo beh gli affronta la lingua e se puoi con quelli un po' più grandi andare a domandare ma se invece di essere singolare fosse il plurale come venire risse ecco come se puoi andare a manipolare i testi a partire da una roba nota che fa manco paura sia per loro che per gli altri tante volte no? Boh traduzione delle canzoni famose tipo ciapo non so jingle bells o che abbiamo già fatto ciapo jingle bells e lo traduso colori io faccio diventare le nadal le nadal le nadal a tutti un buon nadal e non capisco l'idea è che contenti chiese cantarlo abbiamo festa auguri e basi stiamo in compagnia è un po' beo è beo sì contra factum per esempio sono scuola a primaria diciamo qui prima elementare che ha fatto che ha fatto il saggio l'altro D praticamente che ha fatto a nina nanna twinkle twinkle little star col testo in veneto la maestra di musica cambia il testo testo metrico quindi quegli accenti sui posti giusti quel numero di sillabe corretto a seconda delle note il risultato i genitori chiedono mandare il testo per chi vuole farlo cantare a casa perché si si ricorda ma vuole farlo vedere ai parenti al nono a nonna perché non erano tutti col telefono pronti no sta una roba un po' così e quindi se puoi fare come col contrafactum cioè stegno a melodia e cambio e parole ok è una roba insomma insegnante di musica sa insomma le cose che parlo quindi manipolare testi creare testi di traduzione creare testi originali nuovi che può essere poesie questo chiaramente se fa sa ma solo di tutto creare testi che non sia soe o poetichi è importante creare testi in prosa anche piccole letterine perché così si affronta l'uso della lingua in tutti i contesti ricordandosi che l'uso linguistico questa è una domanda che vi faccio secondo voi altri se puoi parlare in Istro Veneto solo di robe che riguarda l'Istro Veneto non si puoi parlare in Istro Veneto della politica estera degli Stati Uniti si che si puoi perché la lingua si è toti potente puoi far qualsiasi roba e ora non si chiama da limitarsi a parlare della storia di buie in Veneto no si puoi parlare di tutto in Veneto se potrei insegnare Napoleone in Veneto forse magari cambierai un'idea su qualche roba che ha fatto ecco va bene in italiano cosa potremmo fare? Fia stroche cante favoe per esempio se puoi cattare una favoe a curta di quei di Sopo per esempio e se puoi in quel caso tramite studenti più esperti fare una traduzione in Veneto in Istro Veneto nel vostro caso e dopo farlo diventare ancora un compito autentico fare i disegni e fare recitare e fare un video cioè non sei che questa roba è trascendentale è una roba che costa mi penso 3-4 ore a livello di pianificazione poco o niente più che altro sta che dirvi all'aspetto linguistico perché il prodotto che esita che viene fuori è un prodotto di qualità ecco anche linguisticamente però è una roba che si può fare che non solo non costa niente ma è una bea resa ecco e teatro o altre che vi anche manifestazioni come sui palco quindi là potresti tirare fuori e strappoiare qualche sena e fargli affare ai singoli studenti intercomprensione negoziare costruire una grammatica dell'Istro Veneto negoziando in base a quanti parlanti che avevi in classe chiaramente perché se l'80% non parla Istro Veneto si è fadiga a fare sta roba però se l'80% parla Istro Veneto può essere interessante creare una piccola grammatica negoziare cosa vuol dire negoziare cioè che parte dalle domande ma sta roba qua come si dice ma se io d'accordo che si dice così non so senti altri modi come si dice questa frase e anche perché così la competenza la immerse e diventa compito di realtà compito concreto CLIL sapete cosa vuol dire CLIL Content and Language Integrated Learning di conseguenza per esempio storia in Veneto altre discipline e poi servirse della drammatizzazione salvia appunto di creare dei senete dei dialoghi anche là la creazione dei testi originali cioè creo non so voglio spiegare la scuola carta dell'america posso farlo in Istro Veneto sì come ho fatto o uno scrive una letterina o meglio a gruppi e crea non so un testo sulla partenza e si mette il capello in testa e si veste da fine 400 ipoteticamente o fa dei immagini o ciapa i quadri dell'epoca e se che fai i voze da drio no se puoi animare un quadro le possibilità sono infinie e nessuno può dire che non venire a fuori una roba che sono utile e che solo di tutto anche questo è importante da capire fatto su una classe dopo una idea potenziale un bassino in potenziale dove uno può dire un'altra classe fa una roba assomigliante diversa e come insegnanti siamo dei piccoli isoe che però galla sapere che sono dentro un arcipelago no tutte le attività di coordinamento orizzontale e vertegale servono anche a queste robe qua e non solo è roba che viene fatta come l'istro veneto stesso è roba che viene fatta dagli altri e dopo ecco e scomincia a propor che altre persone ad attivarsi nella stessa maniera la gamification quindi costruire dei piccoli soghi dei quiz non so ecco non so fare dei schede dei dei pokemon in veneto in istro veneto mettendo la forza la corassa e dopo domandando che per esempio do parare i comparativi sto qua le pi forte de che o la la roba va anche per l'inglese generalmente però crea le consente di strutturare una mente che è flessibile ma che è anche in opera le robe che sa e dopo sta roba che serve generalmente per pi ampiamente passo vita ecco quindi insegnare e imparare questo dirà il veneto in generale ma insegnare e imparare l'istro veneto adesso domanda vi faccio altre esperienze proposte vostre che la presentazione fin qua se finia però adesso che imparremo insomma ecco grazie abbiamo qualche domanda proposta grazie ma più che domande con diverse riflessioni fantastico la domanda voi insegne lingua veneta nelle vostre scuole come materia opzionale facoltativa corso domanda ottima ottima allora i percorsi di veneto questi qua i percorsi linguistici veneti questi qua li facciamo durante l'orario scolastico e solitamente al posto c'è in co-docenza c'è solitamente mettiamo vago mi insegnare e facciamo durante l'orario specialmente delle lettere o eventualmente delle lingue quindi secondo la prima lingua straniera o seconda lingua straniera ecco anche un equilibrio visto che fa parte più dell'ambito umanistico che dell'ambito scientifico no cosa facciamo per esempio cito l'ultimo percorso che abbiamo fatto Stano in provincia di Vicenza e abbiamo fatto un percorso di 5 ore praticamente tutte dentro l'orario degli italiani e con compiti da fare con esercizi in classe con testi da produrre e alla fine abbiamo fatto una verifica e il voto della verifica del test finale è stato inserito dentro una materia trasversale educazione civica è stata inserita là chiaro che mi permetto di dire una cativeria forse se si ritiene a livello attuale chiaramente il Veneto non può essere insegnato dando un voto del Veneto in Italia dagli altri ancora non è così nonostante che abbia il riconoscimento dell'istro Veneto ma chiaramente non esiste la possibilità di mettere un voto però se il Veneto viene considerato un dietro dell'italiano è anche il punto in italiano si può fare queste robe qua e comunque ricordatevi che sì è vero esiste l'articolo sia della Costituzione italiana questo mi parlo nell'ambito nostro ma penso che grossomodo sia comparabile anche in Slovenia e in Croassia esiste la tutela di minoranze linguistiche articolo sia in Italia ma esiste anche la tutela del patrimonio articolo 9 quindi nessuno può dire che la salvaguardia di un patrimonio specialmente del caso vostro sa riconosuo in Veneto che sia la legge della regione in Veneto per esempio che definisse la lingua veneta come l'insieme delle sue varietà che sia scientificamente perfetto legge 8 2007 quindi lei è un patrimonio esistente lei è un patrimonio censio sostanzialmente adesso uso il termine sbagliato esistente esistente anche a palunesco non lei riconosuo dai stati non linguistica legalmente non si può fare non si può assegnare un voto di Veneto come che si assegna un voto di storia o di regione però se mi creo un percorso didattico sul patrimonio culturale e in il caso nostro che sia anche educazione civica educazione patrimonio culturale e il voto di appunto conoscenza un test che va a verificare le competenze sul percorso che se ha fatto è perfettamente possibile ok che questo mi consente di insegnargli ad parlare la lingua insegnargli qualche articoli del Veneto che non esiste dell'italiano per esempio l'italiano ha due articoli maschi e il Veneto che ne è uno solo in italiano si dice il gatto lo specchio e il Veneto dice il gatto è il specchio è uno solo con me che voglio insegnare questa roba qua e che domando sul test finale chi si che puoi dirmi che voglio insegnare il Veneto voglio insegnare la sensibilità linguistica tecnicamente è questo perché questa persona qua nel frattempo ha sentito che in inglese l'articolo è uno solo giusto? e ora ecco l'approccio comparativo e che il verso è la visione abbiamo da educare la sensibilità linguistica da cosa a partire se non dalla lingua stessa che ti te che è in te comunità dove che te si ecco e senza considerare comunque ricordemos che 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 lingue minoritarie che si in italia e que autoctone e la il furlan e laddin e sardo si riconosce per lei dal 1999 ma fin prima e ancora adesso tutti i linguisti li definiva diaetti e si ancora qualche dunn che definisse diaetto sebbene che si riconosce da ormai 25 anni che manco problemi del Veneto o dell'istro Veneto no come che ve l'ho dito è laddin che ha 5 varietà interne e ha 5 varietà interne che ha 2 grammate principali diverse quindi insomma tutto se possibile nell'ambito del possibile dopo chiaramente un giorno arriverà anche l'insegnamento formale del Veneto in fondo fin 60 anni fa non esisteva l'insegnamento di Catayan sulle università e adesso qua a Venezia si può laurearsi in Catayan che vuol tempo ma solo di tutto ricordiamo che questa lingua qua ha mie anni quindi spazio voglio dire che ne è robe da fare robe possibili competenze da sviluppare specialmente se stiamo in una vision ampia delle lingue confronto veneto italian confronto veneto inglese confronto veneto con altra seconda lingua che per esempio teografia moderna del veneto si può fare un bel confronto con la grafia del croato per esempio del sloveno visto che a z in veneto in veneto grafia moderna a z a z stessa del croato del croato della stessa dell'inglese della stessa del francese del portoghese del croato del sloveno e quindi anche dell'albanese del romeno dell'olandese ed è conseguenza anche quello fa comparazione strumenti veramente tanti e solo di tutto se si spiega anche ai genitori perché se un altro è uno degli assi del riferimento non sono solo i studenti i coeghi la dirigenza eccetera ma anche i genitori è in quel momento che se fa capire se significa e se deflassiona i problemi cioè se che spiega che non è iniziativa oggi sarai a favore della lingua chissà cosa ma anche oggi sarai contraria alla lingua se che insegna che si tratta di un patrimonio se che fa vedere se che spiega se che significa cosa che è questa lingua e chiaramente i preconcetti politici in quel tempo moriranno da soi perché è una questione veramente di aumento della sensibilità ripeto adesso non voglio essere cosa però tutti i cambiamenti positivi che riconosciamo positivi in te la storia che avevano questo e sono 30-40 anni perché diverse generazioni crescesse con una filosofia diversa con una visione diversa ripeto l'esempio che ha fatto Tamburelli al primo convenio sulla lingua veneta è il voto delle donne è evidente che il Veneto non può mai essere insegnato perché adesso non l'ha insegnato sarebbe stato come dire siccome che donne non va mai votando non dovrei mai votare è un ragionamento tautoeosico anzi un circolo vicioso visto che allora no ti stica e ti dici no non perché che sia una motivazione vera quindi e viene fatto così dopo che si possa addirittura fare di più si si potrebbe fare anche adp anche senza riconoscimento chiaro che per esempio radio canson ma non ve lo dico a voi altri perché il festival di distro veneto quindi teatro canson penso penso che che l'accademia che si occupa della lingua veneta si chiama accademia da buona creanza nella sua tendomia tredase formalmente 2014 quindi dieci anni fa sostanzialmente dieci anni fa non abbiamo avuto il coraio di chiamare l'accademia della lingua veneta perché seguiamo veramente gli occhi e abbiamo detto sì sarebbe il nome giusto però non andiamo da nessuna parte se dicemo lingua veneta dieci anni fa adesso anche i giornalisti che scrive lingua veneta tra virgolette però intanto io scrive e si passa solo dieci anni e comunque recentemente siamo stati accreditati come accademia presso la a fornire appunto attività consultiva per la commissione intergovernativa sulla la convenzione UNESCO del 2003 quindi un procedimento presso l'UNESCO di stabilire che l'accademia può dare questa funzione siamo la settima entità in Italia nel dosento del mondo ecco e roba che se è possibile perché perché abbiamo fatto attività su quattro stati compreso Slovenia e Croassia perché c'è dei partenariati in corso anche con delle università perché l'università scommissi a occuparsi del Veneto insomma è un procedimento del recupero di una roba che prima di tutto abbiamo che noi non so sentimo perché magari sì mi piace sta roba o sentimo che non mi piace però non va bene né fermarsi al sento che mi piace né fermarsi al sento che non mi piace bisogna mettere le carte in toia e dire ok ma se puoi fare sì gli altri lo fai sì posso fare senza creare grandi casini sì posso fare facendo una roba buona che piace che funziona e che mi fa anche dire qualche bella roba che abbiamo fatto sì e ora si fa basta ancora domande sempre avanti mi Mariano dunque grazie per la risposta pertanto lingua veneta come attività progettuale a scuola durante l'attività didattica è rivolta a tutti i vicenti nelle scuole che fa richiesta o in tutte le scuole in tutte le scuole del territorio in tutte le scuole della regione veneto se dovessimo contare quante chiese sorgeria o l'altra domanda chi va ecco una domanda c'è sempre c'è sempre un esterno che entra in classe e coadiuva l'insegnante titolare nella conduzione del progetto sì perché allora prima roba essendo appunto in realtà dei progetti pilota per verificare fattibita feasibility viability quindi se è possibile farlo se riesce farlo quali sia i risultati cioè quali sia i risultati di apprendimento quali sia i risultati anche di piacere del percorso perché anche questo fa parte di un cambiamento no i percorsi attualmente vi è in somministrai da singolo insegnante che va presso la scuola e per esempio stanno amico ho fatto cinque classi in parallelo tutte le classi prime della secondaria ok in realtà essendo presente in classe l'insegnante dei italiani dopo l'insegnante italiani stesso si forma per poter utilizzare queste competenze successivamente perché si dà un quadro della lingua si dà i rudimenti si consegna anche un dizionario dove si può dopo lavorare perché in Veneto grazie a Regione Veneto c'è diversi progetti dopo dove si può partecipare diciamo la promozione della cultura veneta e della lingua veneta però sì è il docente esterno che arriva è il passo secondo che però intendiamo intraprendere è che vuole un scatto ulteriore esecueo di formare insegnanti in modo che sia insegnanti stessi che invece di fare le lezioni da un'ora e qualcosa per x volte ai studenti e venne formare insegnanti con manco il doppio del tempo per poter doparare appunto avere le competenze per poter fare lori dei progetti che può essere sia questo o addirittura fare dei progetti diversi o somministrare direttamente i singoli progetti perché chiaramente hai da far parte della formazione delle competenze dell'insegnante anche dal punto di vista linguistico ecco non è sufficiente parlare veneto in qualsiasi varietà per insegnarlo chiaramente come che non si può eciappare un qualsiasi anglofono e metta lo scuola e dica adesso ti insegni inglese non funziona così adesso per dire una cattiveria con l'italiano in emergenza fatto l'unità d'italia non che si era insegnanti gli ciappava i toscani li seminava dappertutto oppure gli ciappava chi che aveva studiato a qualcosa e li metteva a fare insegnanti ma non per questo si era buono di parlare quindi paradossalmente insomma adesso abbiamo una sensibilità anche a massa fina quasi vorrei dire rispetto a stiani però è importante che sia una competenza chiaramente quindi una formazione non da Drio da parte dei insegnanti chiaramente siamo ai inizi e comunque siamo a lavorare in un ambiente dal punto di vista legale che non li investe su questo ecco però posso dire che è roba è pian pianetto se Drio se Drio modificarsi se Drio cambiare mi potessi anche andare avanti ma ancora una domanda dopo ti passo il microfono dunque presumo sia la scuola a richiedere questo tipo di percorso solitamente la domanda in linea di massima qual è la demografia scolastica nelle scuole che richiedi e il percorso giusto allora essendo che dei costi solitamente per esperienza c'è il singolo comune che ha investito dei danari per fare questa attività in diversi comuni la scuola ha dato un feedback positivo e il comune e quindi l'anno dopo ha inserito dentro la programmazione annuae e ha richiesto al comune di finanziare il progetto ok quindi o parte dal comune questo perché dico il comune perché in qua la niantri è tutta a primaria secondaria del primo grado il primo ciclo i primi otto anni è sotto la giurisdizione del comune giurisdizione in senso lato dell'amministrazione insomma del comune invece la secondaria e secondo grado tecnicamente sarebbe la provincia perché però è provincia che è non che è in Italia è stata a boie però esiste ancora ecco e quindi se il comune con cui si interfaccia perché il comune solitamente va a provare o meglio e riceve le richieste del finanziamento da parte della scuola perché il comune cofinanzia in parte le scuole e quindi la scuola mette in priorità questo e questo e questo progetto in sede di programmazione e il comune solitamente finanzia quello che viene richiesto demografia delle classi primariamente dei posti che è stato fatto posso dire che si era venetofono tra il 60 il 60 70% dei parlanti circa e questo ha consentito di avere delle doppie dinamiche vedere anche dai test finai studenti di origine indiana di origine sinese fare molto meglio sui test finai di quei che tanto mi lieto lo so ecco il discorso ve lo dico con estrema sincerità dopo si è passata sotto circa penso 400 studenti grossomodo in questi anni e una zona costante dopo che si fa molto bene per esempio e dopo sul diciamo sul questionario finale del gradimento gli dice che non si è piaciuto non gli ha servito a niente perché comunque è un stigma sia da parte dei veneti sia da parte dei non veneti e non venetofoni quindi di volte il studente non vede l'ora imparare sta lingua che tu ti parla e non lo puoi imparare e quindi di volte vuoi impararla ecco anche questo se non è importante da dire quando che gli altri comunque avevano un ambiente una comunità che de suo attende verso il voir parlare all'abitudine di parlare in te a lingua locae che non solo sanno ma è normale da sempre ecco e chiaramente chi che riva e che voesse imparare che impediamo di impararlo se non si può impararlo o lo obblighiamo ad andare in cerca dei frego e parterra di tendere a reccia quando che sente parlare quindi se è una roba bea questa no l'alternativa se copare la lingua in modo che non che si pone più problema ma dopo quando che vi aserà un libro o qualsiasi testo in qualsiasi archivo parocchiae o qualsiasi roba e o che era scritto in veneto e il problema è che copando la lingua che se poi io sotto il tappeto torna fuori perché i miei anni di lingua non ti scondi sotto il tappeto qui copare anche a tutti i parlanti ma la lingua resta là quindi l'aspetto demografico sì ecco un'altra roba che ho visto la competenza linguistica il parlante anche a giovane e ha delle competenze spesso confuse in quel senso che magari sa tutti i numeri fino a un certo punto e dopo oppure conosce tutti non so l'è in grado di dire tutti i diri a settimana però domenica lo dice domenica oppure dice venerdì però tutti gli altri dice luni marti mercoli so che vuoi dire venerdì lunedì martedì ecco ma proviamo a inserga sui testi un po' più vecchi cose che si era scritto ecco e come discorso di bilancia e balanza a un certo punto bisogna anche depurare la lingua da contaminazione ripeto che si fa in tutte le lingue stava qua pensai che l'inglese si è strapieno le parole del francese perché la dominazione normana è avanti così ecco però finché si può lavorare la sua lingua lavoreremo del meglio possibile ho risposto abbastanza mi volevo solo dire breve brevemente cosa che in Istria a Pola e nelle comunità soprattutto degli italiani cosa che si fa nei circoli le scuole noi avevamo un problema di base tutti quanti adesso tutti probabilmente dirà di sì avevamo Fioi che parla poco parlo della bassa ancora Buie il Buiese si salva però avevamo fondamentalmente il problema che il Fioi parla poco l'italiano e parla poco anche il dialetto dunque quel che noi avevamo a disposizione a parte le scuole avevamo una ricchezza secondo me immensa delle possibilità grandiose che si è le comunità degli italiani dove che nessun che vieta alle comunità i circoli di organizzare momenti di incontro dove che i Fioi delle scuole vienano una volta al mese una volta alla settimana ogni due mesi come che se si metti d'accordo per esempio a Pola se ha fatto e se farà di nuovo i laboratori teatrali in Istro Veneto dove che avevamo la fortuna di avere un'attrice che ha esperienza anche come pedagogo teatrale e che l'aga in grumà 12 15 16 Fioi e se fa teatro in dialetto tanti di questi Fioi non l'ha mai sentito e che impararà le prime parole queste Fioi non italiane che viene nelle nostre scuole e che vuole imparare il dialetto perché gli interessa perché senti quei pochi che lo parla e lo fa quel che abbiamo fatto invece in seno al progetto della tutela e valorizzazione dell'istro Veneto i primi passi che se ha fatto a parte il festival che ha i concorsi letterari video dove che avevamo veramente le scuole che aderissi avevamo fatto la traduzione prima dal croato all'italiano di una storia di una favola famosa che si è la casetta del riccio durante dei laboratori al festival del libro per ragazzi da anni in Drio se ha fatto la traduzione dal croato all'italiano dopodiché se ha e se ha fatto le illustrazioni in nove per questo albo in italian dopodiché lo abbiamo tradotto lo abbiamo fatto la nostra bubola in dialetto e si sta creato un fumetto che viene pubblicato di nuovo abbiamo la fortuna di avere un mensile per ragazzi della nostra casa editrice edit e adesso se è fuori penso la terza vennerà fuori il terzo episodio dunque se fa dei passi per avvicinar i fioi non solo ma abbiamo anche usato lo storytelling che è una forma che si usa molto oggi ecco molto attuale che piace tanto ai fioi di nuovo sulla casetta del porco spin sempre in dialetto lo abbiamo fatto a buia per i fioi di buia di città nove lo abbiamo ripetuto di nuovo quest'anno al festival del libro per i fioi dove abbiamo messo in pie per la prima volta quest'anno l'angolino dialettale dove tutte le attività che si è fatta con i fioi dall'asilo alla scuola elementare si sono fatte in Istroveneto e piasi c'è tanto cosa fare però mi penso che noi gavendo le comunità podemos assolutamente sfruttare se di gavere le persone se di gavere un pochi dei soldi e la formazione delle persone per sapere cosa che fa esatto mentre solo che finisse quel che lei leggeva prima le canzoni le traduzioni se di tutto roba che noi possiamo fare soprattutto con i fioi picci se è un passaio in mezzo e il primo passaio se è la formazione giusto sono d'accordo e il secondo passaio è la scuola è un posto formale che cambia il status persettivo della lingua perché il circo o la comunità è tra virgolette passiamo il termine facoltadivo uno può partecipare e quindi è anche esponenziale di una comunità che si ciappa cura del patrimonio e questa roba è maravigliosa questa roba quando esiste però è anche vero che tante volte l'ostacolo non è i studenti non è neanche le forze non è neanche le idee perché come insegnanti che abbiamo il vulcan che lavora sempre e tante volte è il timore che specialmente da parte dei genitori che si ha delle resistenze e delle volte che si ha davvero delle resistenze ok quindi è una roba che mi invito sempre a fare anche a sulle scuole dove che dopo vado a fare questi percorsi e però non mi è in capia questa roba non l'ho mai fatta è un incontro con i genitori e con tutti gli insegnanti di altre materie per fare adesso deve sparire il coso per significare e deflazionare perché se entremo in dell'ottica che siamo veramente convinti che siamo patrimonio che se utie eccetera adesso vediamo se non aspetta che torni in giro con questo cioè se dove ho messo qua significare deflazionare dai pregiudizi positivi e negativi perché se no sembremo sempre da parte se invece se vede che il progetto è intelligente il piase il funziona il gaun vaiore chiaramente i timori si deflazionano di fronte al dato del fatto però bisogna fare un passaio di formazione possibilmente di tipo ufficiale più possibile e soprattutto che il lavoro sia non dico fatto scuola ma guida da scuola dove chi c'è le competenze di chi che sa insegnare ok sia in maniera diretta con l'insegnamento formale sia in maniera indiretta con sto tipo anzi è sempre insegnamento in realtà però in maniera indiretta con sto tipo di attività qua e a seconda roba a terza roba è di pianificare in maniera coordinata il più possibile in modo che i lavori che vi fatti sono un posto possa essere messi a sistema che sia una modalità del raccordo in modo che le best practices che uno riesce a manurare dopo esperienze dopo gli errori dopo e possa essere portare possa essere altre idee per esempio una delle cose che non siamo ancora in grado di fare è di mettere online dei piccoli cartoni animali dei piccoli storiette magari con tai proprio dai studenti stessi magari quei un po più mestighi con qua pronuncia piccoletta possibile ecco della varietà perché questo perché adesso penso che sia anche dagli altri così quante volte i nonni poi i genitori i moe al boccia davanti il tefonino eccetera se si può emettere un canale dove è calcata dentro tutte le storiette in istroveneto uno su una scuola e fa non so la volpe l'uva so che altra può essere anche piccoli favole può essere delle storiette così perché da piccoli non c'è insegnamento formale l'acquisizione e da piccoli si intende prima che ne arriva scuola l'acquisizione la è inconsapevole però entra dentro per ripetizione per sentire e sta roba pian pianetto consente anche a derivare adesso per esempio questo per concludere il ponto qua dentro queste robe che mi non insegno è un manuetto abbastanza completo fatto apposto perché se uno sta a casa può recuperarsi le robe vedi qua i numeri di iscrizione i colori i membri della famiglia eccetera ma l'è fatto perché questo qua ogni studente riceve il suo ok dopo il suo porta a casa e quindi i genitori che se curiosi e vuoi giustamente sapere cosa che si devono fare in classe con questo progetto i gatti hanno a confrontarsi con qualcosa di struttura sistematico fatto da persone formate che sa quello che si devono dire se invece si fa solo l'attività e il progetto in sé senza un momento di diciamo di corresponsabilità educativa con i genitori diventa costruire un ponte che si ferma a metà del rivo bisogna completarlo con la coscienza linguistica da che altra parte che si attua solo coinvolgendo anche in tre fasi di pianificazione e dopo dando come dire la serenità che da dire se tu ti scientifichi come che gli altri sappiamo che applichiamo storytelling che abbiamo letto letteratura o comunque seguiamo formato in qualche maniera con dei corsi eccetera so che vogliamo da età là voglio fare il caviardage ecco come che gli altri diciamo hanno fatto questi corsi approponiamo questo tipo di attività qua la stessa roba bisogna far vedere che le persone che si attiva sono persone che si coordina con altri e che ha fatto una formazione di base oltre che delle competenze linguistiche ecco quindi l'invito è a continuare e anche però a rinforzare anche come gruppo di lavoro ormai si lavora per gruppi su Tudesco e un piccolo gruppo di lavoro sull'Istro Veneto perché no ecco anche per istituzionalizzarlo come 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 gruppo ecco e se vuoi altri microfono se no non si sente mi dice dalla regia mi dicono abbiamo passato le 18 ma l'ultima brevissima nella cartina due si ripeteva con la geolocalizzazione delle varianti del Veneto Istro Veneto c'è anche il Quarnero giustamente mi interessava la domanda che noi a casa nostra che ne torniamo su spesso e volentieri ecco è il puntino su fiume che se o no che se o una variante di Istro Veneto se rifà il puntino proprio sul fiume ovvero il fiume viene ritenuto nella famiglia dell'Istro Veneto o secondo lei il fiume è un'altra cosa allora non ho con più studi specifici quindi la risposta che do è assolutamente sentimentale nel senso che conoscendo tramite l'Istro Veneto parlanti fiume posso dire che l'atmosfera linguistica la stessa però non ho avuto dei contatti così diretti e soprattutto sistematichi da rendermi conto della grammatica implicita che c'è dentro esatto con l'Istro Veneto che c'è di diversità per esempio non ho avuto il condizionale se mi potessi venissi non ho avuto il doppio consuntivo come in tedesco come in napoetano e in latino non ho avuto il condizionale forma con l'infinio più in italiano il condizionale se forma l'infinio più passato remoto lui canterebbe cantare più ebbe passato remoto deve avere infinito del verbo principale più passato remoto deve avere in Veneto invece se forma come in spagnolo come in tutto il resto del Veneto in spagnolo in francese in catà in portoghese e se forma con l'infinio più imperfetto non passato remoto del verbo avere mi cantaria in spagnolo lui cantaria e lui cantaria in portoghese e il cantaria in spagnolo il chantere in francese quindi se è uguale il condizionale del Veneto a parte il vostro e se è compagno cosa vuol dire che vi altri probabilmente sarà l'istrioto che c'è sotto o addirittura un rilassamento sulla struttura del latin questo non lo so bisogneria domandare proprio a chi c'è studia non solo come c'è la lingua perché si studia statica la lingua e si può insegnare senza conoscere la storia la lingua capire da parchese così tante volte anche il Veneto stesso che aveva il passato remoto fin a 500 anni fa adesso non c'è il passato remoto il perfetto del latino ecco quindi questo tipo di studi si assa solitamente ai storici della lingua però il Fiuman stesso bisogna dire che quando c'è una varietà che non si capisce bene se può stare ad equa o può stare ad A sembra magari riduttivo dirlo però alla fine anche il telessego delle convenzioni internazionali i diritti linguistiche i diritti non di esistenza della lingua in sé ma diritti soggettivi dei parlanti di portarla avanti quindi se i Fiumani dice no no ne andre parliamo Istro Veneto è severo che scientificamente non c'entra niente però in tel tempo in fondo le lingue che ne andre parliamo adesso perché i triestini adesso parla praticamente l'Istro Veneto che i segari importà dall'Istria quando che infine all'inizio dell'Ottocentro parlava il Terzestin che non c'era Veneto perché? perché l'Uriga ha fatto una celta che non c'entra niente con la scienza una celta di comunità se i Fiumani vienano al festival dell'Istro Veneto dal punto di vista della pianificazione linguistica anche a stravaga ha un senso paradossalmente anche a prescindere da cosa che linguisticamente c'è però ripeto se il pian scientifico tipo eosico-linguistico se ne è osico-linguistico adesso un po' quei mani specialmente avendo visto disiamo l'Istrioto e avendo visto che è tutto sommano che ha tutta sta diversità col Veneto se non altro mi ricordo che le robe più importanti che morele va è di Tongassion che è straordinariamente difficile da capire a primo colpo ma d'altronde il Veneto è più comprensibile di altre lingue se mi domandasse queste tre varietà neolatine più comprensibili a Recia l'italiano il spagnolo e il Veneto perché sono le uniche tre lingue neolatine tra tutte quante che ha solo le vocai esterne che ha nasa e che ha le vocai turbae e che ha poche di Tongassion poche ben e quindi non ha u e un un portoghese il portoghese è il compagno del spagnolo dal punto di vista grammaticale anzi posso dire che il Veneto è più diverso dall'italiano che non il portoghese dal spagnolo senza dubbio no no a livello grammaticale dopo appena che ti arrivi sulla pronuncia il portoghese è inintelligibile perché sta roba qua è che ti manda completamente fuori da bain stessa roba l'istrioto l'è fadigoso da capire e le volte anche da lesere per l'intensità dei di Tongassion che invece il Veneto noga e altre lingue perché i vocai nasai i vocai turbae come francese per esempio ecco però ripeto vai appena ad andare a indagare sì da che altro lato pur che anche là il Fiuman pur che fai qualcosa l'importante è che è scomissia anche per studiare localmente perché non si può salvare una lingua all'insaputa dei parlanti ecco quindi come ipotesi di lavoro partimmo pensando che sia il Stroveneto e dopo Drio Man studiando andremo a vedere le carte ecco chiamo finì con le domande o sì ho finito o sì ho finito capiamo ah sì 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 strucca il bottone ok allora Alessandro grazie mille mi devo divertire come ogni volta c'è come la prima volta con te dobbiamo far che conoscerle Gaetano Bencis no? beh adesso che veniamo con me al di sete quindi ecco se conoscerai quindi molto interessante ti ringrazio sia per la disponibilità sia per tutta questa condivisione così come mi ringrazio anche tutti voi colleghi che siete state buone pazienti attenti e prima di fare ancora due ringraziamenti e dire alcune robe volevo dirvi che avevo pensato a questo seminario in accordo anche con la nostra consulente Gianfranco Aschuran in una maniera completamente diversa e volevamo che sia una sorta di premio riconoscimento per specialmente per noi che partecipiamo tanto tutti i concorsi e tutti i bandi che ne vien fuori mi so come già che siete molto attivi tutti voi che siete presenti quindi che abbiamo un momento anche di imparare qualcosa ma anche un po' di svago e di parlare tra di noi perché molto spesso ne manca questo anche cioccolare e condividere esperienze ma purtroppo si andrà come si andrà nel senso che noi abbiamo pensato una roba e io vengo a fare un'altra ma penso che va bene lo stesso e ringrazio e ringrazio per prima roba ancora Davide grazie tante che ti ha accolto accompagnato organizzato la barca e un bel applauso per sto bel ragazzo e quindi mi ti prego Davide domani distendere anche a tutte le altre colleghe tu e ringraziare per la disponibilità di oggi grazie anche il presidente ovvio e adesso per ultimo vi presento la nostra guida di domani che se un veneziano vero se è vero se puoi dire così Alberto Montagnier che domani starà con noi che oggi non gli facciamo svelare troppe robe spero sia giusto che le vedi che bello metto che l'ho trovato sì domani faremo una passeggiata per Venezia vi invito scarpe comode spero che non vi daga fastidio camminare perché per Venezia bisogna camminare vi faccio vedere un po' che le robe spero che troverai interessanti vi cadere proprio all'interno del venezian proprio perché andremo anche in zone non quelle centrali da turisti ma quelle popolari che è poco che si è rimasto vi farò vedere delle particolarità ma sentirei soprattutto la parlata con la famosa aerea Rodoada di Marghera che è con me e che è all'interno un po' della venezianità del vivere quotidiano di Venezia e spero che sia un'esperienza per gli altri interessante in mezzo che sia l'Adriatico che ne disvide ma vedere che domani l'Adriatico sarà molto stretto l'acqua sequia e fra Istria e Venezia siamo uno in fronte che altro grazie se diamo appuntamento domani mattina grazie grazie a tutti